Benvenuti amici di MobileOS.it, siamo qui in compagnia di Zopo con il Flash Touch ZAP530 prodotto Android KitKat 4.4 con la Zopo Wii, display da 5 pollici HD, processore quad core 1.5 GHz, l'MT6732, dual sim 4G, 2100 mAh, 1 GB la RAM e 8 GB la ROM. Il dispositivo poi possiamo vederlo qui in tutta la sua design, molto molto sottile, leggero, ripeto dual sim con 4G all'interno, sia gold che black i colori. Noi troviamo il Flash ZAP720, sempre di Zopo, sempre Android KitKat, 5.3 pollici HD quad core MT6732, quindi siamo rimasti lì praticamente, con 1 GB di RAM ma bene 16 GB di ROM. Questo è il design del prodotto, scusatemi, camera da 13 megapixel, la frontale è da 5, dual sim 4G e batteria da ben 2300 mAh. Infine, sempre 2300 mAh la batteria, sempre dual sim 4G, sempre fotocamera 13 megapixel, e 8 la frontale per il Magic ZAP920, sempre di Zopo. 2 GB di RAM, 16 GB di ROM, processore octa-core da 1.7 GHz, l'MT6752, display full HD da 5,2 pollici. Grazie.